Musica Io sono Marissa Cichitano, presidente dell'Associazione Arti Club Accademia di Catanzaro, direttrice di una galleria d'arte, la Galleria Zeusi. Come ogni anno, anche quest'anno, abbiamo voluto fare questo, siamo riusciti a realizzare questa nostra realtà praticamente, quella di partecipare attivamente a questa mostra regionale, la mostra degli artisti di tutta la Calabria, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. E' stato veramente, oggi mi sono emozionata tantissimo, anche perché, pur essendo di Catanzaro, io questa bellissima città non la conoscevo. E quindi, oltre ad aver visto dei luoghi stupendi, questo bellissimo palazzo che ospita tante opere, fra queste, quelle di Mimmo Rotello, un noto, famosissimo artista catanzarese, mi ha fatto piacere ascoltare il professore Caligiuri, nel presentare, mi è piaciuto tanto, nell'ascoltare la presentazione storica di questa bella città. Quindi, mi sono onorata di essere qui, in questo luogo. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.